Stiamo a fare un po' con la mantegna, o c'era... ...agli sotto. Sì. Non mi piace. Partito. Bello questa cosa. Vai. Ok. Ancora? Deciso. Ok, continua, continua, non ti ferma le mani. Vai. 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 Che brutto. Ma caccia la? Voi levati E quattro sciolto il disinvolto E' bello aver sapato la romma Giro E' bello aver sapato la romma E' bello aver sapato la testa grande Quando ti vieni Non c'è nessuno 4 ore 5 ore 5 ore 5 ore 5 ore Sto nella camera? Sì Prendi il bledro? Vai Giusto Mi fermo un paolo, vuol dire sotto Significa vista questa cosa Ok, va bene Lo puoi mettere Dove ho detto che è il buffo Sì Anche stop Un po' più giù Cioè all'inizio delle pampine Ah no le pampine ce le hai tutte Quindi puoi scendere 2 Ancora Va bene avanti vieni Ok Torna indietro per l'ultima volta Bravo Bellissimo Ancora Buttacene ancora Anche più Ok 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 E' buono E' buono Sto al centro E' buono E' buono E' buono Vai Vai Toglila Porta te Lasciate no 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 Vabbò 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 Porta te E' buono E' buono E' buono Stop 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 Stiamo sul progettino E poi tu che cominci le attività Per creare Ah inizia con questa cosa No vai dall'acqua adesso No vai dall'acqua adesso Vai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fantastico. Grazie a tutti. Voglio dieci secondi così. Siamo qui. Siamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.